Si è costituita a Caltanissetta l'associazione di promozione sociale Noi per la Salute di Inanselmi, con la necessità di costituire un'associazione che si occupi di promozione della salute, nata da un'analisi dell'offerta sanitaria nel nostro territorio rivelatasi spesso carente e frammentata e che costringe gli utenti a miracolosi equilibrismi per trovare risposte. In questa opera si cercherà di coinvolgere istituzioni e cittadini, mettendoli di fronte alla realtà di quanto accade, liste d'attesa, carenze di organici, mancate risposte, risposte inadeguate ma anche servizi poco conosciuti o anche poco utilizzati che potrebbero migliorare la vita delle persone. L'associazione è una comunità solidale cui aderiscono soggetti che desiderano promuovere e favorire la piena attuazione dei principi fondanti il sistema sanitario nazionale in provincia di Caltanissetta. L'associazione di promozione sociale Noi per la salute di Anselmi avrà come obiettivo far emergere i bisogni di salute e di assistenza sanitaria, ospedaliera e territoriale dei cittadini. Il consiglio direttivo è composto dal presidente Giuseppe Pastorello, il vicepresidente Michele Rizzo, la segretaria Ilaria Insisa, il tesoriere Ermanno Pasqualino e il consigliere Gian Bruno Loporto. La nostra opera sarà soprattutto finalizzata a fare in modo di verificare i reali bisogni dei cittadini e soprattutto i bisogni che non trovano purtroppo risposta ed elaborare anche delle proposte significative da sottoporre alle autorità competenti affinché si renda più efficace e più efficiente l'assistenza sanitaria sia a livello ospedaliero e sia a livello territoriale. Il nostro essere associazione significa non mettere solamente le nostre competenze, che pure abbiamo, mettere il nostro modo di vedere quello che è il mondo sanitario, ma è anche ascoltare le persone e cercare di venire incontro per quello che ci sarà possibile e se ci sarà dato anche la possibilità di trovare un terreno di incontro con chi ha responsabilità di gestione. Il lavoro sarà lungo e duro e quindi noi ci proponiamo, ecco, come suggeritori, cioè saremo la parte, diciamo, che difenderà la gente, difenderà non nel senso perché c'è una contrapposizione, ma perché l'ASF con i suoi servizi possa venire incontro alle esigenze della gente.